buongiorno ben ritrovati sul mio canale uncinetti e lo sparaglio oggi vi propongo il mio piccolo coprispalle menta adatto appunto a questa stagione io l'ho fatto proprio piccolo cioè nel senso volevo soltanto qualcosa che coprisse le spalle con le maniche vedete qui ci sono le cuciture per inserire le nostre le braccia e quindi ho utilizzato un punto base molto carino sviluppato su due su due righe di lavorazione vi farò vedere come portare appunto la parte superiore e io cucito per 25 centimetri e lati per ricavare appunto per chiudere dare lo spazio al braccio non ho utilizzato altri punti per rifinirlo perché volevo diciamo un qualcosa che un passepartout perché ritengo che se fosse andata a portarlo con maglie alte in costo altro sarebbe diventato un pochino più casual questa è solo una proposta ho utilizzato un acrilico però potrebbe essere realizzato anche con un filato molto più prezioso e quindi proprio per questo non l'ho bordato perché potrebbe avere una lettura elegante per diciamo per coprirsi le spalle per coprire le spalle su un abito da anche da cerimonia la lunghezza io in pratica realizzato rettangolo lungo circa 110 centimetri e alto all'incirca 50 centimetri dopodiché il mio re il rettangolo una volta ultimato l'ho piegato in due e come vi ho detto anche prima ho cucito con l'ago perché il filato appunto abbastanza delicato quindi con l'uncinetto non mi piaceva l'effetto con l'ago 25 centimetri da un lato 25 dall'altro quindi abbiamo giusto l'apertura per coprire e avvolgere le spalle vediamo un po il mio punto di lavorazione è un multiplo di 6 più uno si sviluppa su due righe è molto facile anche veloce da realizzare ciò detto probabilmente ne farò qualcun altro elegante per appena troverò un filato che mi possa piacere proprio da cerimonia lo volevo realizzare questo l'ho fatto proprio perché mi serve anche al lavoro in questo periodo avere quel pezzo in più da poter togliere mettere in base alle esigenze allora abbiamo una catenella abbiamo detto multipla di 6 2 3 4 5 6 allora io come ho detto in altre situazioni quando ci capita di dover fare un lavoro molto lungo io consiglio sempre cioè per certi versi inutile impazzire a mettersi multipli perché perché alla fine se io ho dei multipli piccolini tipo di 4 di 6 e utilizzo anche un filato sottile logicamente se utilizzo un filato spessissimo questo non me lo posso permettere ma utilizzando un filo molto sottile ciò non toglie che una volta finito l'ultimo punto posso tagliare alla fine la parte finale della catenella che si andrà a chiudere direttamente e quindi ritornerà la misura alla misura necessaria quindi io sono andato un po avanti chiacchierando con voi come vedete non ho messo nessun multiplo lo vado vado ad aggiustare alla fine del primo giro il mio multiplo per poter salire aggiungo una catenella alla fine e metto altre 3 1 2 3 che rappresentano la prima maglia alta iniziale dopodiché filo sull'uncinetto io ho messo il dito sulla diciamo sulla catenella in più salto a partire dalla quarta altre due e quindi mi sposto questa è la quarta quinta sesta nella settima maglia vado a montare 5 maglie alte aspettate ok l'ho presa 5 maglie alte 1 2 3 4 e 5 ok poi aggiungo una catenella e vado un attimo che vado una due tre quattro cinque vado a saltare una altre cinque maglie di base vado a creare un altro archetto cioè in pratica il mio primo giro è costituito dagli archetti diciamo dai ventagli di cinque maglie alte suddivise da una catenella e lasciando lo spazio di 5 sulla catenella di base quindi vado una due tre quattro cinque entro nella sesta e quindi faccio il mio ventaglio ventaglio di cinque più una catenella per poter suddividere appunto i ventagli 3 4 e 5 ok quindi questo è il modulo da da ripetere sulla prima riga allora ventaglio di 5 catenella ventaglio di cinque ci vediamo alla fine per vedere come fare l'altro pezzo il secondo giro che è una volta arrivati al termine di questo giro finito il mio ventaglietto di cinque metto il filo sull'uncinetto salto 2 maglie di base e termino il giro con una maglia alta ok maglia alta qui adesso riparto per realizzare diciamo il secondo giro che mi vedrà spostare poi nel terzo giro e così poi successivamente la disposizione dei ventagli salgo con 3 catenelle 1 2 3 giro sui laterali noi dovremmo andare a impostare lo spazio per mezzo ventaglio del diciamo del figo sfalsato pertanto dopo aver fatto le 3 catenelle girato il lavoro aggiungo una catenella rientro nella maglia alta di base e vado a chiudere con una maglia alta va bene in questo modo adesso cosa andiamo a fare andiamo a innanzitutto andremo a lavorare lo spazio per i ventagli qui ok quindi sul ventaglio della riga sottostante salto i primi due punti filo sull'uncinetto maglia alta ok vado quindi a crearmi tra un ventaglio e l'altro una serie di punti v costituiti da maglia alta una due tre tre catenelle maglia alta questo è un giro che si fa molto veloce tanto sono solo una maglia alta nella maglia centrale quindi nel nella terza maglia dei ventagli del giro precedente un ventaglio in mezzo al ai due della riga precedente 23 entro e siamo qui ok e si continua così fino alla fine del giro va bene opla così poi vado qui e di nuovo 1 2 e 3 chiudo qui vado nel centro maglia alta filo sull'uncinetto vado nella terza delle catenelle iniziali vedete qui ho lasciato il punto della eccoci qua lasciamo il ventaglio libero e vado a crearmi la mia il mio mezzo punto v io lo chiamo mezzo perché invece di completo come al centro è costituito da solo una maglia solo una solo una catenella salgo con 3 catenelle per voltare lavoro giro all'interno di questo mezzo punto v vado a mettere le mie questo ma le alte che saranno due nella fase nella negli angoli poi catenella vado qui e monto il mio ventaglio 2 3 4 5 catenella vado di qua 1 2 3 4 4 nuovo tutto scusate 4 5 ok catenella vado di qua monto altre 5 va bene 2 3 4 4 5 4 scusate mi si è incastrato l'uncinetto 4 e infine 5 poi metto una catenella vado nel mezzo punto v monto questa volta solo due maglie alte e una terza sulla terza delle 3 catenelle del giro precedente ed eccoci qua allora cosa succede adesso dobbiamo vi faccio vedere come andare a chiudere per poter si potrebbe anche lasciare così però se voi volete compattare un po meglio il lavoro soprattutto perché nel mio caso io ho scelto una lavorazione che poi ho dovuto cucire vi faccio vedere come vedete vi faccio vedere sul 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 pannello stesso del lavoro io adesso cosa devo fare per poter poi cucire i due pezzi non lascio così i ventaglietti liberi ma vado a ricompattare il lavoro con delle catenelle in pratica tra un ventaglio e l'altro c'è una una maglia bassissima e 5 catenelle ok cioè in questo modo allora nel caso in cui io sia qui diciamo mi venga fuori il ventaglio qui se ho le 3 catenelle cosa faccio volto il lavoro vado a creare 3 catenelle e mi vado a congiungere qui in questo caso catenella che sostituisce la maglia bassissima e qui siamo come se fossimo a metà a metà ventaglio vado a mettere altre 5 catenelle 3 4 5 vado nel ventaglio nel punto centrale nella maglia alta centrale tiro su ed ho chiuso ok quindi cerco di riprodurre ciò che ho fatto inizialmente infatti 5 catenelle più una maglia bassissima non sono altro che ripetizione del multiplo che avevamo alla base siamo partiti con un multiplo di 6 5 catenelle occupate dallo spazio luna dal ventaglio 3 4 5 vado qui in maglia bassissima 1 2 3 4 5 e maglia bassissima qua allora io una volta terminato il mio lavoro l'ho cucito al rovescio perché appunto il dritto e il rovescio del lavoro si vede perfettamente come vi ho detto io ho preferito non bordarlo perché volevo dare una lettura leggermente più elegante al coprispalle stesso però ciò non toglie che noi possiamo ripassare poi l'apertura l'apertura del mio bolero coprispalle con delle maglie basse come più vi piace io ho preferito lasciarlo così perché il punto sebbene sia molto semplice allo stesso modo elegante quindi volevo una chiave di lettura un po paspartout del progetto stesso comunque se il lavoro vi è piaciuto mi raccomando mettete like commentate se avete bisogno chiedete cercherò di rispondere ai vostri dubbi e vi aspetto alla prossima idea creativa alla prossima a presto su incinetti allo sbaraglio